Ciao a tutti ragazzi, sono Gliucchi e sono in compagnia di... Gliucchino! Come stai? Come stai? No, tu come stai? Bene! E io? Bene! Tutti bene? Sì! Yeee! Ragazzi, dove siamo su? Agario! No! Eh, serpente! Serpente! Ragazzi, siamo su slitter.io, che è come Agario, giusto? Sì! Ma... Non c'è anche la mapa! C'è anche la mapa! Sì! E poi? Così c'è tanti colori qua! Ci sono tanti colori, poi? Ma ci sono le palline come Agar.io? Sì! E poi? Ci sono gli se... I se... I ser... I ser... I serpù... I serpù... I seppè... I serpenti! Bravissimo! Ragazzi, è come Agario, ma ci sono i serpenti al posto delle palle e... È un po' come Snake in multiplayer! Tipo... Non puoi... Non puoi cambiare! Vedi che non c'è? Perché? Perché non puoi! Sono bloccati! Non puoi! Sono bloccati! Oh! 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 Vado eh! Eccoci qua ragazzi! Giocherò mio figlio! Guardatelo col mouse! In poche parole come Snake in multiplayer è un po' come Agario! Dobbiamo racimolare con le palle! Ma... Quali sono le differenze? Se vai a sbattere... Muori? No! Vuoi a sbattere? No, non guardo! Se hai corso io faccio questo, vedi? Ah, puoi anche correre! Sì! L'ho ucciso ragazzi! Mio figlio è un pro! In poche parole questo gioco è strategico e bastino dentro per non dire parolacce! In poche parole non bisogna mangiare gli altri! Ma bisogna fare in modo che gli altri vadano a sbattere sulla nostra coda! Ossia sul nostro corpo, giusto? Sì! Per cui è un po' come la realtà delle serpenti! Ragazzi bisogna attirci... At... Bisogna attirci... Attorcigliare il nostro corpo attorno agli altri per farli andare a sbattere, giusto? Guardate! Avete visto? Anche un gigante può morire contro un piccolo e mio figlio... Guardatelo, mio figlio! Un pro! Possiamo anche... Oh, che bello! Ci affassiamo sopra perché non andiamo a sbattere tra di noi! In poche parole ragazzi la tecnica di questo gioco è attorcigliarsi e cercare di mandare gli altri a sbattere contro di noi! Bellissimo! Bellissima anche la grafica! Bellissimo anche come ha impostato il gioco! Guardate! E poi mio figlio è un pro! Guardatelo! Guardatelo! È la prima partita! Guardatelo! Peccato! Ma hai visto quello di gigante? È il morso il gigante! Ora sei verde! Ragazzi è bellissimo! In basso a sinistra possiamo notare quante palline abbiamo raccolto e il nostro rank! Io rank 383 su 4,45! Ma non c'è la classifica! Ma c'è la classifica in alto a destra! Non l'avevo vista! Senti tutti i boschi! Sei grande? No! No! Posso provarne una io? Ok! Ok! Mi ha detto ok eh! Molto gentile il signorino eh! Vai andiamo! Guarda se è questo qua! Io sono questo qua! Sì! Ragazzi io è la prima volta che gioco! Mi aiuti tu? Guardate! Mi aiuti tu? Sì! Abbracciami! Così mi sento più forte se mi abbracci! Guarda! Abbracciami! Così sono più forte se mi abbracci! Ragazzi anche un piccolino può andare a sbattere contro... Cioè anche un gigante può andare a sbattere contro un piccolino! Come si corre? Ah così! Sì sì! Non puoi aspetta! Puoi diventare grosso prima! Ah ok! Se io vado a sbattere... Faccio sbattere quello lì contro il mio corpo... Oh guarda posso mangiare! No! No! Tocca a me! Tocca a te! Sì tocca a me! Facciamo una alla volta eh! Vi metto ragazzi il link in descrizione per giocare anche voi! E ditemi qual è il vostro record se siete riusciti a batterci! Oh mangiato! Madonna se è facile! Oh! Cos'hai fatto? No! Peccato! No! Peccato! Ho ammazzato quello grande! Ho ammazzato quello grande! Sì! Ma sei bravissimo! Ho ammazzato questo verde! Vediamo come lo ammazzi! Vediamo? Vediamo? Io mi arrendo! Io mi arrendo veramente l'ammazzato! Ma tu sei un pro... Tu sei un genio! Ma state guardando ragazzi! Cioè se non metti i pollici in su per sto video veramente... Andiamo a casa e li picchiamo tutti? Sì! E' impazzato l'altro! Cioè raga io ho giocato! Non è semplice! Com'è grande quello! Lo ammazzo ma! Lo ammazzato! Se è un elemento grande ma quello... Guarda quello quanto è grande! No ragazzi io mi sto... Io mi sto... Io mi sto... No 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 no! Sto chiudendo! Perché c'è anche lo scatto! Con i kick e le mouse c'è lo scatto! No! Tocca a me! Tocca a te sì! È toccata a te sì eh! A te piace questo gioco? Eh sì eh! Perché ti piace? Perché... Eh... Non c'è le grandi mostri! Ti è passato! Ragazzi non è facile! Ti è passato! Posso riprovare? Ok! Dai adesso vincio eh! Vincio eh! Mi raccomando vincio! Non vuoi vincere! Perché? Perché non c'è... Non c'è i tuoi mici per vincere! Ah! Cosa mi stai narrando? Eh no non c'è i tuoi mici! Cioè mio figlio conosce il feeder! Conosce il boost! Ma cos'è questo? È un piccolo... Piccolo... Piccolo pallino! Piccolo pallino! Lo voglio prendere! Ma guarda! C'è quella tetta che ti segue! No! Lo voglio prendere! Corri 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 corri! Oh! Questo qua gigante è morto! Sto mangiando tutto! Sto mangiando tutto! Bravo! Sono stato bravo? Sì sì! Oh mi stai insegnando bene! Sei un ottimo... Che bello quello che si illumina! Perché ha briccato la pallina che si illumina vero? Uh-huh! Cerchiamo di entrare in classifica? Sì! Così il nostro nome viene scritto qui? No! Tu sei questo! No non sono quello io! Sì che sei questo! No non ci siamo lì amore! Sì che ci siamo! È lo stesso colore ma non siamo noi! Tu sei mai entrato in quella classifica? Sì ma tu sei questo! No è lo stesso colore ma non siamo noi! Guarda quello come è grande! Allora cerchiamo di mangiare il più possibile e poi andiamo a mangiare quelli grandi? Sì! Ecco ragazzi la cosa figa è che in questo gioco non bisogna mangiare gli altri! Ma appunto... E ma quello va a sbattere! Strategicamente devono andare a sbattere contro la nostra coda! Uh-huh! Perché sennò sarebbe troppo semplice mangiare gli altri! Giusto? Sì! Ma non... Ti vuole quella coda eh! Sul corpo no? Guardate sì Luke faremo un altro video su Agarillo perché mio figlio è un mago di Agarillo! Eh sì! Oh oh oh! Guarda quello con tutto... L'ho preso! No! E' stato grosso non tocca a me ora! Ti apri dici questo coso? Sei molto scema un papà! Che bello quel colore però! Guarda quell'altro! Perché sono così illuminati loro? Perché così corri! Guarda! 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 Mamma mia figlia! C'ha un culo allucinante! Non ce l'ha... No! Ci sono io! È stato... Lo so però hai trovato uno morto a terra se era il cuore quasi diventato grande in 3 secondi! Quanto hai fatto? 936 punti? Ho mangiato uno piccolo! Guarda! Guarda! Ma che fortuna c'hai! Mamma mia! Eh guarda cosa stai facendo! Vediamo se riusci a uccidere quello dai! Ti sfido! Accetti la sfida? Sì! Dai vediamo! Uccidimi uno grande! Aspetta! Non posso! Eh lo so! Ragazzi è strategico mio figlio! Stai lavorando? Stai lavorando il nemico vero? Come? Che strategia adotterai? E poi ci sono io! Uh! Uh! Per poco! Ma anche io voglio illuminarmi così! Cambiamo colore dopo? Sì! Guarda! Guarda! Mamma mia! Vedete quello lì ha preso quello illuminato però non si è... Ha laggato un attimo! Ah peccato! Peccato! Aiuto! Quello lì ha preso quello illuminato ma non si è... Non si è illuminato tutto il corpo! Come fanno? Guarda! Guarda che bello! Perché? Perché sì! Come perché sì? Perché? Guarda che bello tutto illuminato! Come veloce! Perché? Come fanno? È morto! Ah! Faceva il pirletta è morto! Dai! Ragazzi la cosa figa di questo gioco... Non so se è figa o è una pecca eh! Ditevi nei commenti cosa ne pensate! Secondo me... È che... L'ho catturato! L'ho catturato! Il grande... Il gigante non domina! Perché anche il gigante può morire contro il piccolo! L'hai catturato! Ragazzi in poche parole lo ha intrappolato con la sua cosa! C'è veramente come la realtà dei serpenti! Sapete che il serpente per uccidere la preda in la maggior parte dei casi... Con il corpo stritolano lo tengono stretto e poi con i denti zacchete! Ero morto! Tocca a me! Tocca a me! Tocca a me! Adesso voglio diventare colorato anch'io! Voglio diventare tutto sufficiente! Voglio uccidere uno grande! Non puoi uscirlo! Sì che lo uccido! Ehi ma muori! Ehi ma muori! Tocca a me! Non tocca ancora a me! Tocca a me! Non tocca ancora a me! Vedi quello era illuminato e adesso si è spento! Hai visto che si illumina ancora? Come fa? Non chiude! Non mi ha fatto! Non mi ha fatto lo sasso! Oh 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 oh! Ma donna hai visto per poco? Hai visto per quanto tempo? Per quanto pelino non mi ha ucciso! Dai! Sì! Mangio meglio! Mangio sì ma... Anche quello! È morto! Ragazzi una lotta continua questo gioco! Bravo! Sono grande! Però tu sei arrivato a mille! Io sono ancora a 600! Io sono arrivato a 7! No tu sei arrivato a mille! No io sono arrivato a 7! A mille? Te lo dico io! Sei arrivato a mille? Io sono arrivato a 7! A mille? No! Oh ti picchio! Io ti picchio! Oh 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 oh! Lo voglio! Lo voglio! Prendilo! Prendilo! Come si corre? Mi porta a correre! Non si è arrivato a tutti! Sto... Oh! Ho preso! Bravo l'hai fagiato! Eh però non mi sono illuminato! Sai che sei illuminato? No! Vediamo! Non c'ho tutto il corpo illuminato! Vediamo dammi il tocco! Eh no chiudami! Tocca a me! Sono quasi a mille! Una volta che sono grande! Vediamo che ti illumini! Ah quando corri ti illumini! Cioè ragazzi mio figlio mi sta facendo il tutorial! Io non so se mi spiego! Non puoi aspetta non puoi! Se non finisci ti! Ragazzi quando si corre si illumina! Non finisci! Mi ha fatto il tutorial il mio figlio! Ah! Correndo forse consumi! Sì! Quando corri consumi! In basso a sinistra! Diventi piccolo se corri! Lo sapevi? Infatti io ho corso tanto 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 ho matato un sacco di mostri su lì eh! E sei diventato piccolo poi? Sì! Ho fatto tutto da capo tutto da capo tutto da capo e mi hanno ucciso! Accipicchia! Guarda! Vieni qui vieni qui! Vieni qui mangiare 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 mangiare! Non si fa prendere! Ah per poco! Dai dai che ti prendo! Devo intrappolarlo! Devo intrappolarlo! No uno lo voglio catturare! Uno lo voglio catturare! Uno lo voglio catturare! Dai dai! Hai catturato! L'hai catturato! Bravo! Guarda! Ragazzi guardate! Lo sto in poche parole intorcigliando nel mio corpo! Ok? E ora lui è catturato? Sì! Non può uscire! Non può uscire è vero! Non può uscire! È vero è un po' uscire! Guarda! Sì! È catturato! Sempre più piccolo lo facciamo diventare? Sembra una cacca! Sembra la cacca a terra! È il cacca del cane! Sembra la cacca di Scooby? Sì! Guardate guardate! Oh oh oh! Merio! Bravo papà! È andato a sbattere questo tuo corpo! Sono a mille e due! Sì sono a mille e due! Adesso le catturiamo un altro più grande! Sì che siete grandi! Allora! Non consumare! Non correre! Se non consumiamo! Catturiamo questi due? Sì sì! Non morire! Non morire! Non morire! Non morire! Dai devo catturarlo! Devo catturarlo! Devo catturarlo! Devo catturarlo! Oh! No! Scambiano! Non tommo scomaggio qua! Dai tocca a te! Tocca a me! Dai l'ultimo eh! Cerca di catturarne uno eh! Vai! Catturalo! Asso! Oh! Che 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 che? Oh! Che ti sei fatto? Concentrato! Guarda che è morto quello gigante! Beh! Mangia tutto! Mangia tutto! Hai ucciso quello! Vabbè perché lui è il PG Pro! Ma no! Qua si ammazzano! Qua si ammazzano! Qua si ammazzano! Qualcuno si ammazza qui eh! Quello è gigantissimo! Ma ma tre giganti ci sono! Tre giganti! Oh sei già a 600! Eh quasi! Chiudilo! Chiudilo! Bravissimo! 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 Vai tagli la strada! Ah vuoi quello grande? Eh però è difficile! No! No! Ragazzi! Siamo giunti alla fine di questo video! Mentre il mio figlio continua a giocare! Vi ricordo di lasciare un like! Un commento! Una condivisione! E se volete altri video di Snakey Multiplayer! Glielo chiamiamo il serpentello! Mi raccomando! Fateci sapere nei commenti! E io e Lucchino ne faremo tanti altri! Vero? Sì! Ti piace questo gioco? Sì! Stai salutando ma però non li caghi eh! Ciao! Vabbè! No! Sei morto! Ciao! Ciao!